Siamo a Castelnuovo Bozzente, alle mie spalle la sede amministrativa del Parco regionale della Pineta. Da qui parte un sentiero tematico. Oggi vi accompagnerò a visitare il primo intervento di carattere forestale realizzato dal parco stesso. Si trova qui, nelle vicinanze dell'impianto di fitodepurazione. Qui viene realizzato un taglio a raso e vengono inserite più di mille, 1200 nuove essenze, piccole piantine forestali come quelle che potete vedere sul territorio nei cantieri appena realizzati. Quindi ecco che cosa succede. Questo è il risultato. Un bosco, un bosco vero e proprio con delle piante meravigliose. Poco più avanti una sorpresa. Immancabile, proprio al centro dell'intervento, un intervento comunque di dimensioni, perché stiamo parlando di 18.000 metri quadri, circa 20 campi da calcio, la realizzazione di uno stagno artificiale. Grazie. 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 Grazie.